Luca Zaia, a che tempo che fa? Buonasera Presidente, bentrovato, si accomodi, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere venuto, tra poco parleremo del suo libro Fa presto vai piano, edito da Marsilio, editore, in cui racconteremo tra poco di che cosa tratta, esce martedì, dopo domani. Lei riconosce questo studio? Sì. E' quello di Crozza, lei c'è sempre qui. Ma quindi vuol dire... E' di casa. Vuol dire che questa sera sono in libera uscita. Questa sera è in libera uscita. Si dice ancora, complimenti per la trasmissione? Beh, detto da lei, grazie, mi fa piacere. Complimenti per la trasmissione. Molto piacere, non sono... Bravo. Sentami. Allora, io partirei con un sorriso, di cui abbiamo bisogno. Allora, mostriamo queste immagini del Presidente Zaia nei giorni in cui noi non siamo qui, quando c'è lui. Prego. Non intendo diventare segretario da Lega. Me ci vedete a me andare all'estero? Cosa c'entra all'estero? Per far commissi tipo in basicata. Certo, se l'ho scritto io il libro, una per una, tutte copie a mano. Questo è il tampone? Va bene. No, lo metti e te lo metti nel naso. Ma che gusto è? Polente o sei? Polente o sei? Ma che schifo, Lega. Questa c'è a scarga ma gong... Non è che... Non è che mi scarga... No! C'è il polpo. Grancio blu. C'è tremendo? È tremendo. Perché mangia e vongole. Mangia tutte le vongole. Spacca e gno da vongole. Uccide il gondo a ieri. Non si ciammerà più Venezia ma... Ma come no? No, non l'ho dita. No, ma no. Saluti da Venezia. Vi siete mai conosciuti con Maurizio? No. No, no. Io non l'ho mai proprio mai incontrato. Però si diverte quando... Sì, sì, sei un personaggio. Del resto io in un libro l'ho anche citato. Sì, è vero. L'unica persona che ho citato in un libro è stato lui. Lui fa una satira assolutamente... Innanzitutto informata. E poi lo fa da persona intelligente. Quindi... Allora... Mi piace. Io, se lei d'accordo, partirei dal suo libro. Poi arriviamo all'attualità. Come dicevo, esce martedì, fa presto, vai piano. Ecco, mi sa che sul titolo Crozza avrà da fare. Sì, ma sul titolo c'è già abbastanza perché in realtà è uno simono che... Insomma, è una frase di sua madre che lei ha adoperato come titolo perché lei racconta di questo viaggio fatto nel 1986, dopo l'anno in cui prima parlavamo con Veltroni a proposito del concerto di Dalla a New York. Lei e due amici, 1986, su una due cavalli di vapore che andate da Conegliano fino a Marbella. È il primo grande viaggio ed è un episodio fondamentale della sua vita. Oggi è difficile da credere per dei ragazzi che un viaggio possa segnare così tanto l'esistenza di una persona. Ma allora non si viaggiava, era molto complicato, soldi risparmiati per molto tempo lavorando, ciascuno dei tre, l'estate con il padre, chi nei campi, chi cercava di fare lavoretti. E da questo libro si capiscono tante cose. La prima è che è un'era geologica fa. Questi anni Ottanta sono assolutamente lontanissimi. e poi appunto che era un viaggio di formazione anche. Assolutamente sì. Lei l'ha presentato benissimo. Questo è un racconto, esco un po' dal format mio. Quindi è un racconto di un viaggio vero, di un viaggio che è durato 70 ore percorrendo tutte strade normali perché non avevamo i soldi per pagare le autostrade. Però è stato anche un viaggio di scoperta, di crescita. Io l'ho scritto non pensando alla Marc Horde, cioè io tendo a non girarmi mai indietro, ma a guardare avanti, valorizzare i ragazzi di oggi, li valorizzo in molti passaggi di questo libro, ma soprattutto facendo un confronto tra quel mondo analogico nel quale noi abbiamo vissuto e il mondo digitale che loro hanno la fortuna di vivere. È stato, è un po' come si può dire, la sublimazione di quello che è il mio concetto di libertà. Questo è lei? Sì, sì, sono io, è il re della frontiera. Allora si riusciva a entrare in circuito e la mia a due cavalli ha fatto il circuito di re della frontiera. Ma dico anche il concetto di libertà. 1986, dopo tre anni, 1989, il 9 novembre, cade il muro di Berlino. Ma nel 1975 era crollato il franchismo. Quindi la Spagna era il muro di Berlino che è antelitteram, il crollo del muro. 15 anni prima. Però dico anche ai ragazzi, attenzione, perché io ho visto per la prima volta la sbarra di una dogana. Io non ho mai visto una frontiera. Ho visto quella spagnola, ho visto quella francese, ho visto quella inglese, la gibilterra. E quindi ho vissuto quella ultima parte di Europa con le frontiere. Quindi dico, godetevi questa Europa. Ci voleva la carta verde per andare. Ci voleva un sacco di robe. Si girava con i travel check. Quindi oggi c'è la carta di credito. Però è anche un racconto per dire, io ho visto 70 ore di film fuori dal finestrino della mia auto. Se l'avessi fatto oggi, a 18 anni, questo viaggio, probabilmente vedevo 70 ore di telefonino. Sì, beh, anche perché poi allora, appunto, essendo un mondo analogico, non avevamo la possibilità di viaggiare attraverso le immagini in contemporanea che arrivavano da altri. Il viaggio te lo dovevi proprio fare. Era un viaggio tridimensionale. Tridimensionale dovevi sentire gli odori, i profumi, la fatica. Guardi, se pensi solo che per vedere qualche foto della località dove tu dovevi andare, dovevi essere costretto ad andare in qualche agenzia di viaggio e a recuperare qualche catalogo che quantomeno avesse qualche foto. Assolutamente. Il nostro internet era l'enciclopedia. Chi è che la se ne ricorda più l'enciclopedia? Era un mondo che oggi, cioè questo mondo non esiste più. Ma questo appunto lei dice giustamente non è nostalgia, non è rimpianto. No, assolutamente. E quindi che cosa vuole dire lei ai ragazzi con questo libro? Che innanzitutto dobbiamo dire che noi eravamo più lazzaroni di loro. Quindi i ragazzi non sono dei lazzaroni. Questo è un paese, l'ho scritto in molte occasioni, non è un paese per giovani, no? Poveri ragazzi oggi, Rousseau nel contratto sociale dice che il popolo ti delega a rappresentarlo quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. Ma i ragazzi numericamente, dal punto di vista di corpo elettorale, non rappresentano una maggioranza o comunque una buona massa critica. Quindi rischiano di non essere mai rappresentati. E siamo noi adulti che dobbiamo decidere di rinunciare a molte nostre prerogative per lasciare spazio ai ragazzi. I ragazzi subiscono una narrazione negativa quotidianamente. Quindi noi dobbiamo difendere questi ragazzi. Io direi, per usare una proporzione, gli anziani stanno al Portogallo e a me piacerebbe dire come i giovani stanno all'Italia. E noi potremmo candidarci ad essere il paese dei giovani. Ma non perché c'è la denatalità. Perché comunque siamo il paese più bello al mondo. Non c'è cittadino nel mondo che non nasca pensando di visitare l'Italia. E perché non candidarci con delle politiche veramente aggressive a favore dei giovani? Le faccio un esempio. Se noi dicessimo che lo Stato dà le garanzie in maniera tale è che i canoni d'affitto dei ragazzi si trasformino in un progetto di vita e quindi diventino rate di mutuo. Ma i ragazzi se sono precari non riescono ad accedere a un mutuo. Se qualcuno non mette le garanzie mai avremo un progetto di vita. E quindi questo libro, il racconto parla anche di molti... Ragazzi di ieri per preparare i ragazzi di domani. Ma i ragazzi di oggi sono più bravi. Purtroppo si punta sempre alla pianta che accade che fa un sacco di rumore. Ma io conosco un sacco di ragazzi che studiano, che hanno il lavoro, hanno anche il secondo lavoro del lavoro a part time, che si danno da fare, che ci invidiano in tutto il mondo. Dobbiamo valorizzarli. Noi poi italiani abbiamo sempre questo difetto, a guardare sempre nel giardino degli altri. Cominciamo a guardare a casa nostra perché i giovani in Gambia ce li abbiamo noi. Do una informazione di servizio. Siccome vorrei parlare un po' più a lungo con il Presidente Zaia, facciamo l'altra ipotesi. E' difficilissimo adesso entrare nel discorso che vorrei fare perché vorrei parlare del presente. Il Presidente Zaia ha indetto il lutto regionale per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Sono ore drammatiche in cui davvero io non riesco a pronunciare nemmeno una parola. Non mi sembra che c'è una parola di buon senso da dire, quindi non le dico. Però è chiaro che siamo di fronte a, come dicevamo con Veltroni prima, un problema gigantesco. Mentre qui si discute sull'opportunità, facendo una questione politica, se ha senso o no, l'educazione e l'affettività nelle scuole una ora, ma ce ne vorrebbero duemila ore alla settimana di educazione e l'affettività e non solo nelle scuole, ce ne vorrebbero dappertutto. Insomma, è chiaro che si è rotto qualcosa. Lei è il Presidente della Regione Veneto e quindi è direttamente coinvolto in questa vicenda. Insomma, dica quello che si sente. Guardi, le dico che noi come comunità abbiamo sperato per sette giorni che Giulia potesse tornare a casa e dopo sette giorni purtroppo l'epilogo è stata la notizia di ieri che Giulia è stato trovato il corpo di Giulia, martoriato, sembra accoltellata e penso che non ci siano parole per definire le barbarie e anche il comportamento di questo ragazzo. Dall'altro io spero, consideri che c'è una famiglia che sta soffrendo alla sofferenza, il dolore, ma anche l'orrore di quello che è accaduto, che non è una roba da poco. C'è una combinazione astrale assolutamente negativa. Ricordo il papà di Giulia, Elena, la sorella, la mamma non c'è più perché è morta un anno fa e dico, spero che Giulia non sia semplicemente, non diventi semplicemente la centocinquesima vittima di femminicidio di questo paese di quest'anno. Noi dobbiamo intervenire. Io condivido, ma l'ho detto anche in tempi non sospetti anche, perché purtroppo abbiamo avuto anche altri casi, che la scuola rappresenta per noi una grande opportunità, una grande piattaforma di formazione, ma non si insegnano solo le lettere, la storia, la geografia, la matematica, ma anche di formazione di vita e approfittare di questo grande network che noi abbiamo, che sono i ragazzi che vanno a scuola, per fare le ore dell'educazione e l'effettività, parlare del femminicidio, parlare della violenza di genere, parlare di quella che sarà la giornata perché il 25 novembre avremo la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. Ecco, io direi che sarebbe fondamentale che si iniziasse a fare sul serio. Dall'altro però me lo lasci dire, questo è anche un paese che vive molto spesso di alibi, questa non è una sfida dei giovani, è solo dei giovani, perché il femminicidio tocca anche altre fasce d'età, ma è una sfida nostra, della comunità, lo dico anche perché è una sfida che inizia dalle famiglie, non possiamo immaginare, è come se mandassi un bimbo a scuola e diciamo beh a scuola insegnano l'alfabeto, insegnano a scrivere, non serve che io lo segua con i compiti a casa. Quindi, e chiudo, guardi che il tema dei segnali, glielo dice uno che ha aperto uno sportello che esiste da dieci anni e ha avuto duemila accessi. Noi abbiamo aperto questo sportello e so che ha dato anche consulenza ad Antonio Albanese per il suo film. Di cui parleremo tra poco, l'ha visto il film? No. Vado a vedere perché è bellissimo. Non ho parlato con Albanese, andrò anche a incontrarlo in Veneto e le dico, noi abbiamo aperto questo sportello che dà una consulenza gratuita, ci sono professionisti psicologi e ci occupiamo di questi temi nel totale anonimato. Allora, penso che sia fondamentale che i genitori colgano anche alcuni aspetti che a volte vengono sottovalutati, l'ossessione, le psicosi, il rapporto malato con il partner dei figli e sono indicazioni fondamentali. C'è un genitore che nota questo, che ami il nostro sportello, che parli con qualcuno, perché Giulia è vittima di questo. Presidente, lei, anche su, insomma, ci sono grandi temi come quello che lei ha enunciato, non vorrei dire una cosa, insomma, non voglio in nessun modo essere banale o peggio populista, ci sono grandi temi che secondo me oggi è proprio volgare considerare di destra o di sinistra e devo dire che purtroppo invece viene molto percorsa questo tracciato, lei è una persona leale come tutti sanno. L'altro grande tema su cui lei si è sempre pronunciato chiaramente è quello del fine vita per esempio, no? La maggioranza di governo di cui le fa parte non è esattamente sulle stesse posizioni, l'abbiamo visto sulla vicenda della povera bambina della povera Indy in Inghilterra, anche lì lei ha una posizione diciamo a mio giudizio molto di buon senso che va a raccogliere il dolore degli individui, delle persone ma anche qui mi sembra che ci sia scarsissima sensibilità. Ma guardi, questo è un argomento delicatissimo e lo si deve affrontare rispettando le idee di tutti, di chi difende il fine vita e di chi magari parla solo di cure palliative che peraltro ci sono. Le dico però che io mi sono trovato ad affrontare questo tema perché non sto nella tribuna a guardarmi la partita, io sono a bordo campo. In virtù di una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, la famosa sentenza per il DJ Fabo, ne viene fuori che cittadini possono chiedere alle loro ASL di poter attivare il percorso di fine vita secondo determinate prerogative stabilite dalla sentenza e ovviamente interpellando il comitato etico. Perché le dico questo? Io trovo che non sia civile in un paese esercitare questo potere, esercitare insomma un tema così importante, affrontare un tema così importante senza una legge. Dico semplicemente questo. Guardi, chi si è rivolto a noi si è rivolto perché è malato terminale con sofferenza sapendo che le cure non avevano più effetto il supporto psicologico non funzionava il tema delle cure palliative non riusciva a risolvere i problemi. Allora, io le dico che se capitasse a me io vorrei poter decidere faccio un appello non chiamiamolo più suicidio assistito questo è il percorso del fine vita la gestione della parte finale della vita di un malato grave di un malato terminale Certo, vedendola così cambia totalmente Dopodiché è ovvio che le garanzie ci vogliono qui ci vuole l'istituzione di garantire che uno ci arrivi in libertà in totale libertà in scienza e coscienza che non sia assolutamente una modalità per spingere qualcuno a fare cose che non dovrebbe fare ma questo è il ruolo delle istituzioni penso che i sistemi di garanzia ci siano Guardi, i giovani ancora una volta ed ho chiuso indicano la via anche qui se chiedessero se qua ho una platea piena di giovani penso o considerano i ragazzi degli incapaci o probabilmente noi o meglio chi non la pensa come loro è un po' antiquato lei ha parlato di era glaciale io penso anche alla preistoria Senta Presidente per alleggerire un attimo se mi consente io vorrei vorrei parlare di me un minuto non lo faccio mai ma ho un problema e mi vorrei confessare col Presidente della Regione Zaia Allora diventa complicato Complicatissimo sì Posso chiamare Croz No 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 deve far da solo cioè io ho un problema mi trovo insomma sono d'accordo con Salvini sul ponte questa è una notizia è una grande notizia il problema è che sono d'accordo con Salvini del 2016 quando diceva che era un'assurdità a farlo che gli ingegneri dicevano che non stava in piedi che non c'erano le infrastrutture una volta che arrivavi che era una follia le chiedo lei è d'accordo con Salvini? Assolutamente sì ma del 2016 o del 2023? Ma io a dire la verità perché in mezzo c'è il mare tra il dire e il fare quindi ma sai c'è stata un'evoluzione onestamente senza dire c'è stata un'evoluzione rispetto anche al tema delle grandi opere in questo paese glielo dico perché io vengo da una regione dove il Mose era visto come una roba da non fare Mose c'è ma adesso c'è e Venezia non va più sull'acqua infatti ma il ponte dico lei è un segno di intelligenza anche cambiare idea dipende ogni quanto cioè con che frequenza no nel senso che guarda io penso che intanto ci sia vediamo la bottiglia mezza piena vediamo io non sono un pessimista la bottiglia mezza piena cosa dice? dice ma lei lo farebbe intanto avete iniziato un percorso comune siete tutti e due d'accordo lei lo farebbe o no? ma sì ne programma la partita ne programma c'è tante cose ne programma lo chiedo a uno che si occupa del Veneto no guardi no non dica così io lo chiedo a uno che è favorevole all'immigrazione controllata perché è un problema in Veneto lei ce l'ha con i negazionisti del cambiamento climatico è favorevole alla libera scelta personale del fine vita insomma ma lei qualche volta è d'accordo con Salvini o no? sì sono d'accordo chiedo assolutamente sì anche questa è una notizia ma io pensavo fosse un problema più grave per me è gravissimo per me le assicuro che è gravissimo no ma guardi posso dirle qualcosa di più sul ponte le dico qualcosa di più che vedo che questa è un'opera che comunque hanno innescato il turbo e direi che si potrebbero utilizzare un po' di fondi del fondo di sviluppo e coesione in seconda parte si dice sempre che in questo paese non si utilizzano i fondi comunitari ecco magari buttare un occhio anche lì così magari libereremo qualche cifra a livello nazionale senta torniamo al libro voglio dire una cosa al pubblico io non parlo di ponti comunque no 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 parlo di questi tre ragazzi e poi c'è una certa Ines che ho capito che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita ma lo scopriranno sì sì va letto il libro eh? libro va letto ah no non sa cosa ho capito sì sì va bene sì il libro va letto e si capirà di questa Ines no perché è stato un attimo che ho temuto il peggio va bene e assolutamente sì volevo fare due domande la prima è cosa farà nel 2025 quando scadere il suo mandato eh mi compro sempre il cavallo non ho ancora trovato ancora il cavallo esatto lui c'è una foto a cavallo non è una statua equestra era proprio la fiera a cavalli di Verona la settimana scorsa lei è il ministro L'obbrigida vogliamo dire che questa è una foto di Marbella di Marbella allora ma invece la settimana scorsa c'era lei è un po' insicuro il ministro insomma che ma dipende sempre dal cavallo eh povero anche il cavallo vabbè e la seconda domanda volevo fare l'ultima è questa se lei avesse 18 anni oggi dove vorrebbe andare? oppure diciamo un giovane di 18 anni dove consiglierebbe di andare? farei esattamente quello che fanno i ragazzi hanno l'opportunità con pochi euro di prendere un volo low cost girare il mondo fare anche questa narrazione della fuga dei cervelli allora se uno va via dall'Italia per scelta va rispettato e va aiutato se ci va per necessità dobbiamo porci qualche problema però il mondo ormai come si può dire è in totale osmosi rispetto ai nostri anni no? quindi anche il viaggio io vado in giornata a Bruxelles per dire nei miei anni o potrei andare in Spagna in giornata ma questo viaggio ha avuto una pianificazione paurosa quindi direi che i ragazzi fanno bene a girare fanno bene anche a meticciarsi come si dice a livello internazionale direi che questi sono i segni della libertà sarebbe bello che lo potessero fare i ragazzi di tutto il mondo senza dover prendere barconi e rischiare la vita e pensiamo anche ai ragazzi che oggi subiscono le guerre Medio Oriente l'Ucraina e molti altri paesi ancora grazie Presidente grazie a lei grazie di essere venuto alla prossima grazie